Siamo qui con Alessandro Cecchi Paone e anche lui aderisce alla iniziativa di un piano Marshall e quindi di un New Deal for Europe per andare contro la disoccupazione e contro la crisi. Lei che cosa ne pensa al riguardo? Io firmo per un motivo ancora più ampio, ero del Movimento Federalista Europeo quando ero un liceale, quindi qualche anno fa, e sono convinto che l'ideale di Europa resti uno dei grandi valori, uno dei grandi architravi motivazionali soprattutto per i giovani. L'Europa è un grande ideale, non è solo banche, non è solo soldi, non è solo spread, non è solo coefficienti da non sforare. È un grande sogno parzialmente realizzato di pace perpetua, sono 60 anni che non c'è una guerra in Europa grazie alla comunità e poi all'Unione, ma è soprattutto un grande sogno di diritti e di uguaglianza. Certamente il lavoro, la mancanza di lavoro è un fatto drammatico, ma in Europa, grazie all'Europa, i diritti vengono rispettati molto più di quanto non poteva succedere prima e non succede ancora adesso, per esempio in Italia, nei singoli stati. Va bene, allora la ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Arrivederci.